l'ambrenedetto Baden-Württemberg 18 vi faccio vedere un po di usato e nuovo qui in germania qui nel Baden-Württemberg vicino al Carjue siamo al concessionario Audi Stoppatsky ok a Tlingen iniziamo Audi A5 Sport Coupé ce ne sono un paio sono praticamente nuove hanno 9000 km viene 59.850 questo qui è un Audi Q2 Sport 2000 turbodiesel 4S Tronic praticamente nuovo fine 2017 a 7000 km viene 48.990 questo qui è un Audi Q2 Sport 1600 turbodiesel viene 36.930 a 7000 km del 2017 anche questo un Audi Q2 1400 praticamente anche questo nuovo viene 36.490 un Audi Q2 design viene 41.899 praticamente è nuovo c'è 6 7000 km del 2017 Audi A3 Sportback praticamente nuova 10.000 km e ne 29.830 questa qui è un Audi A4 Limousine ambition è del 2016 a 15.000 km viene 42.499 cioè praticamente potrei fare il venditore sembro il baffo questa è una Q2 a 15.000 km del 2017 design 1600 viene 31.830 so che di base viene 65.4 poi c'è su una sfilza di optional 93.170 viene è un Audi SQ5 3000 IFSI 4 facciamo un po' anche il nuovo questa è un Audi A1 viene 19.8 di base poi con tutti gli optional viene 28.350 questo qui è un Audi A8 di base viene 90.000 con tutti gli optional viene 133 comunque di base viene 90.6 questa è un Audi A8 5 di base viene 43.250 poi vabbè ci sono su tutti gli optional quello è un Q2 che di base viene 34.150 di base RS Coupé è un bel mezzo di base viene 66.400 poi c'è su tutti gli optional 90.735 RS3 Sportback 2005 di base viene 54.600 poi c'è su tutti gli optional